La risposta normale, questo non per la flat tax, ma per qualsiasi cosa, cioè dove si trovano le risorse e dove si trovano tutte le altre. Io spero che una cosa tragica come la pandemia ci abbia insegnato che la scelta di fare delle spese o delle detassazioni è una scelta politica. Prima invece sembrava, o quantomeno facevano credere ai cittadini che fossero delle scelte ineluttabili. Non so se vi ricordate l'indecoroso tiramolla tra la proposta di deficit, sempre nel primo anno del governo giallo-verde, la proposta di deficit a 2,4, poi chiusa dopo estenuante trattativa che ha bloccato il paese per un mese a 2,04 di deficit. Quello che veniva venduto in quei momenti era che se si faceva il deficit a 2,4 si sfasciavano i conti e che quindi il paese sarebbe fallito poco dopo. Ma quanti anni siamo andati dietro a questa sciocchezza? Veniva presentato come una cosa ineluttabile perché se si faceva il 2,6 invece che il 2,5 allora cambiava tutto. Poi improvvisamente si è deciso con scelta politica di attuare delle politiche di lockdown e non c'è stato problema a fare il deficit al 10%. Uno dice ma c'è la pandemia. Sì c'è la pandemia ma significa che è una scelta politica. Non è che 20 anni di stagnazione dal punto di vista economico siano meglio di una pandemia, sempre dal punto di vista economico. Per cui una volta che si è capito finalmente, io ho cercato da anni di spiegarla questa cosa, più o meno deriso, che le questioni del deficit non erano un limite fisico ma era un limite politico, quindi una scelta che come tale poteva essere fatta diversamente, la risposta normale è che i soldi per qualsiasi cosa, sia per la plattax o sia per riempire una buca per strada, si trovano nello stesso posto dove si trovano tutti gli altri soldi, vale a dire dal bilancio dello Stato. E il bilancio dello Stato se farà poi deficit o surplus dipenderà soprattutto dalla crescita. politiche che hanno depresso la crescita per tanti anni, non portando crescita, portavano crescita del debito. L'abbiamo sperimentato negli anni nefasti del governo Monti. Viceversa, abbiamo visto tranquillamente l'anno scorso, senza fare un tuffo nel passato remoto, che pur facendo importanti cifre di deficit, se la crescita è sostenuta, il rapporto debito-pil calda.